Questa maschera prudeva, si anche la mia Mangiamo qualcosa? Si! Tavolata di amici! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale Oggi facciamo un nuovissimo video di Tocca Life Visto che è tanto tanto richiesto e vi piace Però prima vi ricordo di mettere tantissimi like Iscrivervi al canale per far parte del Team Giugatti E attivare la campanella per ricevere tutte e tutte le notifiche Adesso sigla e iniziamo Che bella la sigla aiutata, mi piace un sacco Ecco qua, guardate ragazzi Ma c'è il cielo viola, ci sono i pipistrelli che escono Che paura, guardate Ogni tanto escono dei pipistrelli Allora, là nell'angolino Sofì c'è scritto Morning Bomb Battery E angolino, angolone, prende tutta la schermata Allora, clicca il carrellino e vediamolo Già Ecco qua, la nuova cosa che è in regalo Guardate, invece di mettere il più c'è il pacchetto regalo La bakery del pane del buongiorno È una bella traduzione, la bakery del pane del buongiorno La bakery del pane del buongiorno è disponibile gratis Oh, grazie Costruisci Vediamo un po' com'è Siamo sempre curiosi quando arriva qualcosa di nuovo sul top Esatto, poi ci mancava una bella Bakery del pane del buongiorno Già, ci mancava proprio Sarà una panetteria del mattino? Ma, penso di sì Oh, eccola La costruisce vicino alla casa dell'orrore Io non ci avrei Perché avevo un po' paura di cosa c'è dietro Oh, sembra molto carino C'è un coniglio con un uovo in testa Carino Proviamo ad entrare Non l'ho mai vista La vediamo insieme con voi Ok, ragazzi Siamo arrivati E già così è carinissima Ah, quello è un nuovo personaggio? Già È una ragazza Ciao C'ha i capelli un po' zuccosi Un po' zucchettini È vero E il suo petto che cos'è? C'è un cagnolino? Questo cagnolino è bellissimo Qua c'è qualcosa Oh, oh Cos'è? Non lo so, ora non è una cartina Sei sicura? Sì, sì Controlla perché sai che su Toha i segreti sono all'ordine del giorno, eh? Qua abbiamo una cosa che sembra molto molto buona Ma adesso entriamo, vediamo Oh, c'è un signore Ciao, ciao Un po' di panini Il caffè Ma è carinissima Guarda, Sofì Oh, sì, è vero Qua abbiamo un'altra giacchetta Il burro da arachidi Poi abbiamo tutto Il pane Allora ci sono C'è il pane normale Quello integrale Le baguette I cornetti Che carne? Che cosa ci avrà dentro quel frigo? Vediamo Uh, zucche, zucchette Poi abbiamo Ma aspetta Questa è una meringa Aspetta, aspetta Dopo cusciniamo anche Adesso vediamo la location Poi cambiamo lui Qui abbiamo il forno La luce Questo si apre Ok, carina, dai Ma il caffè viene fuori Guarda un po' dalla macchetta del caffè Se ci fanno il caffè Oh, sì, ti prego Facci il caffè Oh, che buono Aspetta E due biscotti Nell'invece? Ah, ecco Arriva Sofì Se abbiamo il caffè Abbiamo anche Sofì Vestita abbastanza Qua che c'è la linguetta fuori Eh, stia dando No, sì Stia dando un leccottino Alla bevanda Senti Sofì Che ne dici? Sentiamo le musiche della Bakery Ok, allora Questa cosa carotosa È molto molto carina Classica Quella Alza un po' Quella che c'era di già Aspetta Aspetta Ma c'è anche quello di Halloween Hai sentita? Mi è venuta un'idea ragazzi Adesso Guardiamo tutta la location Troviamo dei segreti Se ci sono perché Dobbiamo scoprirli E dopo veniamo Con tutti gli amici Vestiti da Halloween A festeggiare Sì, ok Aspetta Rimettiamo la musica normale Ecco Ok, allora Troviamo i segreti Tu Tu ne sai qualcosa? Eh? Perché non gli amici? Gli metti La giacca da chef La giacca da chef Così adesso Ti puoi divertire Fargli creare qualcosa Con gli ingredienti Che ci sono dentro il frigo Allora Vediamo Abbiamo delle caramelle Caramelle Più zucchero Viene una cosa Super zuccherosa Vediamo un po' Allora vediamo Mettiamo qua Abbiamo le caramelle Poi Abbiamo E lo zucchero Mettiamo insieme Una torta Torta a due cani Aspetta 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 Serve una meringhetta Qua Ecco Bellissima Bellissima questa Mettila lì sul tavolinetto Bravissima Bellissima Adesso proviamo Un'altra Proviamo a mettere Meringa più fragola Meringa più fragola Ce l'hai ancora una meringa? Sì ce ne abbiamo ancora Meringa e fragola Oh una mini tortilla Che buona che tu Ecco ma lo sapevo Poi proviamo Una zucca Zucca e zucchero O uova? No mettiamo del pane integrale Come pane integrale? Sì 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 Buonissimo Una ricetta genuina Eh sta vedendo Quando lo mangi tutto te Oh Ok sì Pane e zucca Ecco Pane e zucca Lo mangia la soffì Adesso che ne dici Di provare la zucca Con le uova Ad esempio Per vedere se vi era Una bella Apple pie Ok Una No una Pumpkin pie Ma torta di zucca Ok No pane e uovo Allora Meringale No mettiamo questo Burro di arachiri Con il pane No 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 Mettiamo Sugar 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 Super Sugar 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 Ok La torta di zucca Questa è buonissima Aspetta c'è anche le scintille Aspetta Vedi che c'è anche I scintillini Sì c'è pure i scintillini Senti Sofì Ma se metti tipo un cornetto Con tutti gli zuccherini La Tanti amori Sofì Ma raccomando l'apporto No ma ti sei mangiato tutto Cosa volevi mettere? Guarda che no Non entri più nel vestito Prova Il cornetto Con i Questi Sì esatto Gli smartis Gli smartis Sì via Smartis Abbiamo smartis e cornetto Eh va bene Va bene Smartis e cornetto Buonissimo Buonissimo Che non l'abbiamo ancora provata Vedo uno Siete pronti? Oh panino Sì c'è anche il salato Mettilo su Non mangiare Mettilo su un piatto Prepara Ecco fatto Niente Se finisci di vicino a Sofì Non dura tanto Ve lo dico Proviamo col pane integrale Invece Un uovo Sono dato il pane integrale Uovo Cosa succede? Eh viene l'uovo col pane integrale Latte Con latte viene una torta Dove l'ha versato il latte? Sofì è andato per terra Ma no Sì Ah è vero Guarda C'è un disastro Niente Adesso non ci scivolare sopra Dai Facciamo così Sofì Panino sugar Controlla ancora un po' Oddio pane Pane e zucchero Pane e zucchero Buonissimo pane e zucchero Facciamo la mangiare Uno sprint di energia Ma non fai di mangiare tutto Volevo che tu preparassi un po' di cose Per la festa più di dopo Oh giusto Andiamo in cerca di segreti Sofì Che dici? Sì Eh vabbè Ciao però Li mettono sempre dietro le grate Diamanti Diamantino Una volta Sofì Facciamo un video Se le cingattine lo vogliono Sì Andiamo a cercare tutti i diamanti di Toca Sto appigionando tutto Adesso ragazzi Facciamo finire notte Ok E notte Mettiamo la musica Spettrale E adesso Eccoci Qui Adesso dobbiamo invitare i nostri amici Vero signore? Sì Ma con quel coltello Questa musica un po' spaventosa Ragazzi siamo arrivati alla bakery Con la mia troupe Questa è Yara Sì Yara non è molto paurosa Questa sono io Questa è Sara Questo è Tommy Maso Ti mangio il naso E c'è mia c'è mia Mi raccomando Un centino Ecco Questa è mia la polpa Tu levare Via Io mangiare il naso Tu Non sedere tutti quanti Ma cosa fate Tutti uno sopra l'altro Mi sapessi Perché noi siamo mostri I noi volere torta Eh Sofì La tua maschera Io fare torta Io farei la faccia spaventata Io fare torta Cosa succede quando uno spaventato? Cosa? Ci fa la pipi addosso No? Ma che di me è bello Cosa fa? Ci sono altre espressioni da provare Che ancora non abbiamo fatto vedere Ad esempio Questo è uno scherzetto Al posto del dolcetto Prendiamo la zucca E poi prendiamo Un uovo Con zucchero Oh no Con lo zucchero E lo zucchero Ecco qua Una bella torta Per tagliarmi due Porto Ma cosa fa? Per mangiata Per prendere il piatto Ma no Disastro Ecco C'erano lassù i piatti nuovi I piatti puliti Dove? Lì Sul mobile Ci sono anche le tazze Aaaaa Pallizzano frago A voi La festa più spaventosa Della Adesso devo fargli mangiare quel piatto Tutto per te In pieno stile soffino Tutto per te La felice Guarda lì Sì Ragazzi Tranquilli Tutto per te Ecco Adesso danni il caffè E così Faranno Ecco sì Lo scherzetto Aaaaa Ok E noi beviamo tutti i cossini Oh no Dalla broca Nelle tazze Biu 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 Ragazzi È un disastro Mi sono le tazze Io mangiare i gufo Oh no Oh povero Gua che gufo Cosa c'ha Almeno un mano Io mangio dolcetti Tranquillizzare Perfetto Ottimo Meglio fare altro pappé Ah che bella festa Vero Cipo Io scappo spaventato A me mi fate paura Meglio se mi metto sulla panchina Poi va Già No vado Vado anch'io Grazie Sto fuori Tutti fuori sulla panchina Sai Sofì Cosa succede Dopo che Tutti questi Spettri Passano la notte Nella bakery Eeeh Che anche il signore Si No Arriva giorno E di un tratto Io ho fame Che dite Sì dai Questa maschera prudeva Sì anche la mia Mangiamo qualcosa Sì Tavolata di amici Tommaso resta in piedi No Povero Tommy Tommy si mette qua Ma perché lo mette di tempo da parte Lo metti sempre da due storie E poi lo metti sempre da parte Perché Tommaso No Scherzo Colazione Caffè Cornetto Volete un cornetto? Sì E colazione Via E anche la notte più spaventosa dell'anno Quella di Halloween Finisce Bene Dolcetto scherzetto Vi lancio il cornetto Piii Ecco Se l'ha mangiata mia al volo Chiara pronta? Che dite andiamo a casa? Oh Restiamo qua Ragazzi Vi invito ad indovinare Quale sarà il mio costume Per questo Halloween Vi sicuro Vi sicuro Di sicuro Sarà super spaventoso E il vostro quale sarà? Prestissimo Arriverà un vlog bellissimo Perché in questi giorni Sono un po' Di sorpresa Ecco Non vi posso dire niente Anche perché Non devo dire niente E ragazzi Spero tanto Che questo video vi sia piaciuto Mettete tantissimi like Iscrivetevi al canale YouTube Attivate la campanella Din don Din don E ciao Alla prossima Al prossimo video Alla prossima